Ma cosa stanno facendo questi signori qua in questo video? È il ritrovo degli elementari? È il mai dire banzai del 2022? Che cosa diavolo stanno facendo in fila col telefonino tutti insieme? Stanno allenando le proprie capacità di live streaming, di andare in diretta col cellulare. Perché in Cina è un mercato che nel prossimo anno si stima valga più o meno 700 miliardi, 720 miliardi. È enorme, ci sono milioni di influencer, quando sono andati in Cina si definiscono KOL, gestiti da agenzie o da questi multi-channel network si chiamano. Andare in diretta da cellulare per vendere in Cina è un business potenzialmente enorme. E giuro che prima o poi lo voglio fare anch'io a Brighton. Li ritrovo tutti col cellulare sul lungomare, porto tutti sul lungomare, adesso tutti a destra, adesso tutti a sinistra, riprendi gabbiano, ripreso e adesso tutti dentro l'acqua ghiacciata.